La scuola è allagata, tutti a casa. È successo alle Sabin, in via Camerano ad Ancona. Nonni e genitori si sono ritrovati davanti ai cancelli come tutte le mattine per accompagnare i bambini a scuola, che in classe però non hanno nemmeno messo piede. Sul pavimento diversi centimetri d'acqua, muri gonfi, seggioline e giochi spostati all'esterno per essere asciugati al sole. L'allagamento sarebbe partito da un bagno, con la rottura di un tubo flessibile, avvenuta nel fine settimana, quando la scuola resta chiusa. L'acqua naturalmente è scesa e quindi ha riempito tutto il piano da cui si era rotto il flessibile e poi è penetrata nel soffitto delle aule sottostanti. L'acqua sta continuando a scendere, in particolare su due aule, quindi chiuderemo queste due aule e recupereremo degli spazi di sopra per poter permettere ai bambini di rientrare. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, le pulizie eseguite dal personale, e il sopralluogo dei tecnici comunali, solo due aule restano inutilizzabili. Organizzando diversamente gli spazi, però, assicura il comune, martedì potranno rientrare alle Sabin i 159 bambini della scuola d'infanzia e i 48 alunni della prima elementare delle Domenico Savio, la scuola di Via Torresi, chiusa per lavori dal 2009.